Parliamo in questa lezione di politica e delle varie scuole di pensiero che nel 1900 hanno teorizzato a riguardo. Iniziamo dal marxismo, che dopo la prima internazionale si è organizzato nella seconda internazionale dei partiti socialisti. Questa internazionale è caratterizzata da forti influssi positivistici e quindi vedono la scienza che trionfa necessariamente e tutto il progresso ottimista dell'umanità inarrestabile. E per questo motivo molti di questi marxisti iniziano a deviare dal pensiero originario di Marx, sostenendo che alla fine il capitalismo è destinato ad arrivare al suo fine da solo, senza che l'uomo debba fare nulla, e anzi rifiutando l'idea di ogni rivoluzione violenta e scegliendo unicamente delle lente riforme democratiche verso un imprecisato fine. Questo tipo di revisionismo perde quindi la sua analisi economica, diventando più moralista e finisce per sostenere i governi capitalisti. Tanto che abbiamo addirittura teorici del revisionismo che sostengono il colonialismo, dicendo che è un giusto modo per guidare i popoli del terzo mondo verso il capitalismo, arrivando addirittura a sostenere i governi nella prima guerra mondiale. I partiti socialisti supportarono tutti quanti la guerra tranne due. Il primo è quello italiano di Turati, il secondo è quello russo di Lenin. Lenin critica la seconda internazionale e il revisionismo, proponendo un ritorno a Marx. La filosofia di Lenin, noi non approfondiremo la politica sua perché questa non è una rubrica di politica e ci limiteremo al lato filosofico, è basata sul realismo. Esistono cose che noi non controlliamo con la nostra mente e da cui deriva l'analisi marxista e la necessità della rivoluzione. Una rivoluzione che può partire da paesi che non sono ancora pienamente entrati nel capitalismo, in quanto quei paesi sono in realtà quelli su cui si regge il capitalismo mondiale. Affinché l'Italia sia ricca e democratica deve avere tante colonie che non sono né ricche né democratiche e da lì può partire la rivoluzione, sostiene Lenin, diffidando della borghesia russa che non è capace di prendersi il suo potere. Lenin teorizza che quindi fare la rivoluzione non sono solo gli operai delle industrie capitaliste, ma anche gli agricoltori post-feudali, da qui il simbolo della falce del martello. Il partito comunista deve essere per Lenin l'avanguardia, guidato da intellettuali che coordinano il popolo secondo il principio del centralismo democratico, ossia tutti votano liberamente cosa fare, ma una volta presa la decisione si resta fedeli a quella. Lenin, come Marx, era estremamente critico dello statalismo. Nelle sue ultime fasi di vita Lenin infatti iniziò a dire che la burocrazia zarista si stava mangiando la rivoluzione, che loro stavano venendo inglobati nella macchina mostro del deep state e arrivò, per questo nel suo famoso testamento, ad accusare Stalin, prevedendo che avrebbe accumulato un gigantesco potere. Anche Trotsky, amico e collega di Lenin, un tempo mencevico, critica l'idea antimarxista e revisionista di Stalin del socialismo in un solo paese, che non solo è contraddittoria, in quanto così nasce un paese rosso superiore agli altri, un paese che può fare dell'imperialismo, che può opprimere e che fa morire la rivoluzione in se stesso, ma anche è dannosa per la rivoluzione generale. Trotsky analizza l'economia mondiale su basi marxiste, traendo la conclusione che essendo l'economia formulata su delle leggi oggettive, indipendenti dal controllo umano, la trasformazione da capitalismo a socialismo è qualcosa di continuo, eterno, che non si può affermare. Questa è la famosa teoria della rivoluzione permanente. I lavoratori, una volta preso il potere in uno stato, devono subito aiutare le rivoluzioni altrove e diffondere la fiamma socialista ovunque, altrimenti sono destinati a degenerare in forme di napoleonismo. Ripeto, si potrebbe fare un video di un'ora sulle varie scuole di pensiero del socialismo, quindi conserviamo questi argomenti per future occasioni. Passiamo a Lukács. Lui riprende il pensiero di Marx alla luce di Hegel. Secondo Lukács, l'errore delle scienze moderne è di presupporre i fatti come dati puri e non come indivenire dialettico. Cioè, tu scopri nella scienza qualcosa. Quella non è una scoperta pura, è una scoperta fatta da alcuni esseri umani in un certo momento storico ben preciso e sotto una certa mentalità. Devi comprendere questo continuo movimento. Inoltre, accusa la scienza di parcellizzarsi come la nostra società, che ci atomizza in tante cose separate e ci separa. Per Lukács serve un ritorno al marxismo e critica il revisionismo. Per Lukács il proletariato è quello che si rende conto di essere sfruttato e si ribella, sviluppando una coscienza di classe. La borghesia non è capace di sviluppare una coscienza di classe, in quanto, anche se un borghese si rende conto delle strutture capitaliste, lui comunque vive di capitalismo, ha un conflitto di interessi e quindi nega, minimizza, distorce, sviluppa una falsa coscienza e difende il capitalismo. Pura teoria senza pratica. Quindi i proletari sono gli unici protagonisti della storia. Lukács distingue due pensieri. Da un lato il pensiero dialettico, che è marxista ed è amico del progresso, e poi c'è il pensiero borghese, che è irrazionale ed è conservatore, assolutamente incompatibile con il progresso umano, e produce antinomie che svalutano la ragione in nome di intuizioni sovrarazionali. Lui fa risalire a tutti questi filosofi come Spengler, Nietzsche, Schelling, Scheller, Heidegger, Jasper e Schopenhauer queste tendenze, che vede come radici del nazismo. Lui parla anche di estetica, sottenendo che siccome l'arte è uno specchio di una realtà oggettiva, questa inevitabilmente o rappresenta i difetti del capitalismo, e quindi gli ideali progressisti, oppure rappresenta l'irrazionalismo nichilista borghese. Altro filosofo importante è Bloch, il quale sviluppa un'ontologia dell'incompiuto. Bloch risponde ad una critica molto comune che si fa del marxismo, cioè che è troppo utopi, è troppo bello per essere vero, non si potrà mai realizzare. Bloch mostra come l'universo è un processo per definizione in divenire. Quando lo analizzi lo stai fotografando come se fosse fermo, ma invece ti si muove sotto il microscopio letteralmente, si evolve sempre, è intenzione verso il cambiamento secondo leggi ben precise, e per questo motivo la filosofia deve svilupparsi verso l'attesa del cambiamento del futuro. Lui rivendica dunque l'utopia. Una volta sarebbe stata utopia abolire la schiavitù, oggi è realtà. Una volta sarebbe stata utopia abolire il feudalesimo, oggi è realtà. L'utopia non è una cosa sbagliata, al contrario, è ciò che oggi è sogno e che noi ci rappresentiamo come sogno per poi realizzarlo nella speranza del futuro. Passiamo all'Italia, dove il marxismo viene sviluppato da Antonio Gramsci. Gramsci è stato per molti versi simile a Leopardi, anche lui molto intelligente sin da giovane, anche lui fisicamente debole. La differenza è che è stato attivo in politica. Gramsci è il massimo esperto di antifascismo, è stato uno dei primi a teorizzare la base ideologica di come funziona il fascismo, del perché i borghesi e i liberali finiscono per supportarlo. Gramsci critica il crocianesimo e in generale il neoidealismo italiano, colpevole di aver sempre in mezzo Dio in una forma o nell'altra e di non considerare Roma abbastanza. Attenzione, non si deve confondere questo con una professione di ateismo. Gramsci in realtà nutriva profondo rispetto per la religione e sono stati ritrovati nella sua stanza numerosissimi oggetti religiosi e croci, per che Gramsci avesse una spiritualità in realtà profonda. La sua è una critica sociale. Gramsci sviluppa la teoria dell'egemonia. Secondo Gramsci ci sono due tipi di egemonia. Quella politica, che ha il controllo dei mezzi di produzione dello Stato, ossia i borghesi, e l'egemonia culturale, ossia che ha il controllo degli apparati egemonici che controllano il discorso pubblico. I giornali, la televisione, i siti internet, diremmo oggi, le religioni anche, chi controlla il modo di pensare, l'egemonia culturale, ha il controllo di una nazione. Gramsci afferma che è possibile strappare alla borghesia l'egemonia intellettuale, logorarla sempre di più e indirizzare il popolo contro di lei. Per questo motivo Gramsci riprende Machiavelli e sostiene che il principe sia da vedersi come l'intellettuale organico, ossia il partito, dove gli intellettuali fanno da avanguardia e spingono il popolo alla rivoluzione, secondo principi democratici e organici. Come vedete somiglia molto a Lenin. Questa idea dell'egemonia è alla base del comunismo italiano. Dalla Gramsci a Berlinguer c'è sempre stato il tentativo di combattere la borghesia sia dall'esterno che dall'interno, usando anche le parole, i dibattiti, le elezioni, la propaganda, la letteratura, i media. Gramsci ha più volte manifestato critiche a Stalin, diciamo che rispetto a Togliatti era meno allineato, pur non essendo troschista, e la sua ideologia è totalmente incompatibile con lo stalinismo. Gramsci parla anche della questione meridionale, dando uno schiaffo sia ai leghisti sia ai neoborbonici. La colpa non è né del nord né del sud, bensì c'è una storica alleanza tra gli imprenditori industriali padani e i grandi latifondisti del sud, un'alleanza politica che risala dopo Garibaldi allo scopo di impedire le necessarie riforme agrarie. Quindi Gramsci rimprova all'atturati di aver pensato solo agli operai del nord e di non coinvolgere gli agricoltori del sud. Di nuovo la somiglianza tra Lenin e Gramsci si spregano. Passiamo ora alla scuola di Francoforte, un gruppo di filosofi che criticano la società capitalistica, pur considerando lo stalinismo un esempio da non seguire, come virtualmente il 99% dei filosofi dell'epoca, facendo una critica che è hegeliana, riprendendo la dialettica, marxista e freudiana, in particolare l'introiezione psichica dell'autorità. Il primo è Horkheimer. Secondo lui la filosofia è divisa da un lato nei grandi sistemi che si basano sulla ragione oggettiva e dall'altro quei sistemi basati sulla ragione soggettiva, i quali sono basati solo sull'utilitarismo tipico della società industriale, che non può discutere dei principi che sono privi di utilità. Questa è la sua grande critica all'illuminismo, il suo aver ridotto tutto a cosa è utile e cosa no, dimenticando i principi filosofici. L'illuminismo, nel suo ridurre la natura sotto il dominio dell'uomo, ha finito per ridurre l'uomo sotto altro uomo. Horkheimer rappresenta la società utilizzando la metafora di Ulisse con le sirene. Ulisse deve passare vicino alle sirene, così ordina ai suoi uomini di mettersi la cera nell'orecchia per non sentirle e continuare a remare, e lui invece che vuole sentire le sirene ma non vuole morire, si fa legare all'albero così potrà udirle senza che i suoi uomini lo possano liberare e senza che lui si butti in mare. Secondo Horkheimer questa è la metafora perfetta del capitalismo. Da un lato i lavoratori che non possono bearsi di piaceri, possono solo lavorare e stare zitti, dall'altro persino i capitalisti non sono davvero felici, perché la barca è sempre quella. Divenuto anziano, Horkheimer riserverà alcune critiche a Marx, dicendo che anche lui in fondo è illuminista e la sua fiducia nel miglioramento dell'umanità è troppo ottimista e alla giustizia e libertà sono incompatibili. Per questo Horkheimer avrà una svolta religiosa, nella nostalgia e la speranza è totalmente altro. Se il secondo filosofo è Adorno, o come lo chiamano nei commenti di YouTube Adorno, Adorno sostiene che dopo Auschwitz tutte le filosofie del passato, così ottimiste e complete, sono distrutte, che la filosofia ora dovrà comprendere la dialettica negativa. Il mondo è fatto di contraddizioni insanabili, senza soluzioni, senza un perché e bisogna accettarlo. Lui critica quella che chiama industria culturale, oggi le chiamiamo i mass media, ossia come il mondo dell'arte e del divertimento che dovevano essere liberatori e spontanei hanno finito per essere programmati e funzionali al dominio borghese, manipolando le coscienze, accettando il conservatorismo senza alcuna prospettiva filosofica. Invece l'arte deve essere una critica al presente e prospettiva dell'utopia del futuro. Poi c'è Marcuse, che nel suo Eros e Civiltà sostiene che l'umanità per vivere in società, come diceva Freud, deve reprimere gli istinti. Ma nel capitalismo questo è peggiore. Abbiamo una rimozione di base, necessaria per vivere insieme, ma poi c'è un surplus di rimozione, utile allo sfruttamento dei borghesi. Tutto è ridotto al principio di prestazione, ossia di produttività. Bisogna risessualizzare invece il corpo umano, che invece è stato ridotto alla tirannide genitale. Puoi fare sesso? Sì, solo per procreare, per produrre altri schiavi. Mentre il capitalismo è rappresentato da Prometeo, il costruttore intelligente, lui propone come alternative Orfeo e Narciso, coloro che vivono nel bello, che cantano invece di comandare. Bisogna eliminare le repressioni delle pulsioni e desublimizzare, perché il capitalismo sembra che ti lasci libero di fare quello che vuoi e non ci siano tabù, ma in realtà si tratta di una tolleranza repressiva. Tutto ciò che è filo capitalista è libero, ma tutto il resto è represso, capito Fusaro, e tutto è commercializzato. Il socialismo deve rivolgersi ai soggetti rivoluzionari esclusi dal sistema. I stranieri, i disoccupati, i reietti, le persone di colore, i dannati del terzo mondo, coloro che sono nel grande rifiuto. Passiamo a Benjamin, il quale sosteneva che l'opera d'arte, ora, può essere riprodotta e mostrata in massa, e quindi viene rovinata dalla logica del profitto e mercificata come strumento di controllo. Egli era sia ebreo sia comunista, e sosteneva che l'attesa del Messia coincideva con la rivoluzione del futuro. Passiamo ora a Carl Schmitt, filosofo del nazismo, che fu assolto a Norimberga, però privato dalla cattedra, anche se i nazisti stessi non lo apprezzavano in quanto poco ortodosso. Schmitt rifiuta il giuspositivismo, ossia la giustezza della politica sta nella norma, bensì afferma il decisionismo, ossia colui che impone la norma a renderla tale. Il sovrano che decide sullo stato d'eccezione, il potere decide cosa è giusto e cosa no. Secondo Schmitt, la politica è basata sul concetto di nemico e amico, ossia ciò che in cui mi riconosco o meno come umano. Questo è il suo primo grande errore, perché il riconoscimento nell'altro avviene sia con i nemici sia con gli amici. Secondo lui tutte le comunità e lo Stato si costituiscono sempre in antitesi ad altre cose, e anche questo è falso. La società non è nata in antitesi ad altre società, bensì da agglomerati di forza. Lui critica il parlamentarismo, dicendo che i politici sono tutti corrotti, distanti dagli elettori e facile all'abuso di potere, e la democrazia è una strabica sommatoria degli interessi particolari. Per questo lui auspica uno stato totale plebiscitario, come quello nazista, ed è sicuro che così non ci sarà nessun problema del genere. Inoltre lui teorizza che, essendo la società polarizzata in una lotta tra opposti, ogni secolo ha dei centri di riferimento, di gravità permanente, ossia dei campi neutri. Sono stati, in ordine dei secoli, teologico, scientifico, umanitario, economico e poi il tecnologico per il ventesimo secolo. Il ventunesimo probabilmente avrebbe l'informatico. E ora parliamo di Anna Arendt, figlia di due socialdemocratici. L'Arendt è famosa per il suo testo La banalità del male, in cui lei, questa donna ebrea e socialista, insomma un bell'insieme per la storia, decide di proporsi per esaminare Eichmann, che era stato catturato in Argentina dal Mossad e processato a Gerusalemme per i suoi crimini di guerra. La Arendt studia il profilo di quest'uomo, un crudele gerarca nazista che ha fatto delle cose orribili, idolo di tutti i fascisti e disgusto di tutte le persone stranamente. Il male radicale, per citare Kant, il più assoluto. Ma la Arendt, esaminandolo, si rende conto di una cosa che lascia sconcertati. Lui non era né particolarmente malvagio, anzi lo definiva noioso e quotidiano, né particolarmente intelligente, non aveva completato gli studi, il suo primo lavoro l'ha ottenuto per raccomandazione, faceva errori grossolani, né particolarmente attivo, tanto che era entrato in vari gruppi, tra cui la SS, solo perché è convinto da altri e si sentiva parte di qualcosa di più grande. La Arendt, insomma, ci dice che quest'uomo, che ha commesso delle cose atroci, non ha nulla di particolare. Non c'è una causa di cattiveria, è una persona assolutamente normale. Ed è questa la cosa più terribile di tutte, che fa mille volte più paura di un inesistente gene della cattiveria o un encefalogramma dei serial killer. E' l'idea che una persona del tutto normale possa trasformarsi in un mostro. Non una storia, ma l'assenza di memoria storica. L'Arendt dice, e tutti gli psicologi le daranno ragione, che chiunque può diventare così. E il processo non è neanche difficile, come numerosi studi hanno poi dimostrato. Gli umani possono diventare molto crudeli nel giro di pochi secondi. L'Arendt sostiene quindi che non è un pensiero, ma l'assenza di pensiero nelle persone normali, banali, da qui la banalità del male, a renderli obbedienti ad uno schema crudele. Eichmann addirittura si proclamava un zionista, perché si era inizialmente opposto alle persecuzioni ebraiche, e per questo lui pensava che gli ebrei lo avrebbero compreso. L'Arendt per questo denota come lui fosse capace di intendere volere, dato che sapeva obiettare e disobbedire, come nel caso di Himmler. Il suo sottomettersi al noi e agli ordini, il famoso stavo solo obbedendo, è quella la radice di tutti i mali. Quando invece c'è un primato della coscienza? Eichmann vedeva se stesso come qualcuno che si stava sacrificando per un bene maggiore. E quando lui usò Kant per difendersi, dicendo che bisogna obbedire sempre e comunque al dovere, l'Arendt, che era una filosofa, lo ha massacrato, dicendo che per Kant bisogna innitutto considerare i requisiti etici delle proprie azioni. E parafrasando Kant, disse nessun uomo ha diritto a obbedire. L'Arendt fece anche notare che Eichmann diceva numerose falsità, alcune delle quali lo facevano sembrare peggiore agli occhi della giuria. Alla fine tutto si era ridotto ad una vanteria. Eichmann preferiva essere ucciso come criminale piuttosto che vivere come un nessuno. In tutto questo, l'Arendt criticò anche il processo, definendolo uno show fatto per consolidare il neonato Stato di Israele, e lei stessa, pur essendo ebrea, critica l'idea di uno Stato israeliano. YouTube, stai buono, stai buono, sto solo citando lei. Ora, lei quando venne a Gerusalemme venne accolta come una celebrità, ma appena si seppe che lei aveva scritto che Eichmann non era un mostro ma un uomo banale, e che quindi chiunque può diventare come lui e non c'è un male intrinseco, tutti le si rivoltarono contro. La accusarono di essere un'antisemita, lei era ebrea, di essere segretamente nazista, infatuata di Eichmann, di essere una che odia se stessa, arrogante, senza cuore, ignorante e nemica di Israele. Venne accusata dalla Anti-Defamation League, non che questo significhi qualcosa, come sapete, se l'Anti-Defamation League non ti proclama antisemita, non sei nessuno, è tipo un rito di passaggio, e la cosa divertente è che quei cretini, perché cretini sono, non l'hanno neanche capita, e non hanno capito che lei non stava giustificando Eichmann, lo stava condannando più di loro. Lui ha scelto di essere malvagio, non aveva alcuna caratteristica che lo spingesse, e mostrando come chiunque può diventare come lui, stava mettendo in guardia sul pericolo sempre vivo del totalitarismo. Lei è stata la più grande Cassandra dell'intolleranza, ed è stata per questo proclamata intollerante. Mi dispiace, cara Anne Arendt, ma non sei la prima e non sarai l'ultima ebrea intelligente a venire accusata di essere andisemida solo perché critichi qualcosa del governo di Israele. YouTube, stai calmo, stai calmo! Ricordiamo che criticare quel governo non è antisemitismo. La maggior parte degli ebrei del mondo neanche ci vive lì dentro, e sono numerosissimi gli ebrei che sono critici di quel governo e le sue azioni. Già i sionisti sono una piccola parte degli ebrei. Figuriamoci i sionisti che sono d'accordo in tutto e per tutto con il governo. Ormai quella dell'antisemitismo è diventata una scusa per schermare il corrotto e ultraconservatore diktat di una certa politica israeliana, che da anni va avanti con questo ombrellone anticritiche. Inoltre si fa molto al lupo al lupo. E dopo aver criticato Israele posso dire addio alla demonetizzazione di tutto quanto proprio. La Arendt disse, io non amo gli ebrei, io sono semplicemente una di loro. La Arendt anzi critica una parte del vittimismo ebraico, che finisce in realtà per contribuire all'oppressione. I paria consapevoli, li definiva lei, che fanno della propria condizione di discriminati una virtù e la normalizzano. La Arendt critica il sionismo di aver bisogno dell'antisemitismo per fondarsi e dice che l'olocausto non è frutto della cultura tedesca, bensì del fenomeno, tutto mondiale, dell'intolleranza totalitaria. Il totalitarismo. La Arendt è stata uno dei primi filosofi a definire questo termine per bene, molto meglio di Popper in verità, dato che lei correttamente mostra che il totalitarismo può anche nascere in una società liberale. Il totalitarismo è una conseguenza della società di massa ottocentesca, che rende tutti gli individui atomi separate e privi di spazio pubblico. Lei riconosce che stalinismo, nazismo, colonialismo, pur essendo fenomeni molto diversi, avevano questa radice comune e vede nell'antisemitismo il suo presupposto. Il totalitarismo è basato sul binomio tra terrore e ideologia. Il terrore spinge all'obbedienza e nasce con la polizia segreta, che si infiltra fino all'intimità della vita privata, oltre che nella vita pubblica, e ha come esito finale i campi di concentramento, che servono ad eliminare quelli che lei definisce gli indesiderabili, ossia quelli che sono dannosi al sistema già solo esistendo. Quindi la Arendt, già all'epoca, dava uno schiaffo in faccia terribile a Jordan Peterson, che, per chi non lo conoscesse, è un ideologo dell'estrema destra americana, molto caro all'alt-right e preso come modello di ispirazione per i giovani conservatori, che ha più volte criticato tutte le sinistre definendole come comuniste. Uno degli infiniti errori dell'ultraconservatore Peterson è stato quello di dire che Hitler era soltanto pazzo, poverino mi verrebbe da dire, e che Hitler dimostra di essere pazzo perché uccide gli ebrei invece di schiavizzarli per vincere la guerra. Ora, chi fa un ragionamento di questo tipo dimostra di non aver studiato minimamente che cos'era il nazismo. Il nazismo non era un movimento folle, seguiva una sua logica ben precisa, secondo cui i popoli non sono tutti uguali, alcuni popoli sono inferiori ad altri. YouTube, sto parlando di quello che pensano loro, io non lo penso, è una stronzata. Tu non puoi semplicemente sopportare le altre razze inferiori, perché fino a quando le lasci convivere loro inquinano la Germania, la indeboliscono. Tu le devi separare nella logica nazista. E gli ebrei per Hitler sono la razza peggiore di tutte, solo esistendo un ebreo trama 10 complotti, 20 attentati e 30 crisi economiche per Hitler. Dire se Hitler fosse stato razionale li avrebbe schiavizzati è sbagliato. Per Hitler l'ebraismo è analogo ad una malattia, che più sopravvive più corrompe è tutto ciò che tocca. Solo eliminandola è possibile fare pulizia. Jordan Peterson mistifica quindi Hitler, come ha mistificato Marx, vabbè che per lui chiunque sia critico di qualcosa è un clone di Marx. Dall'altro lato abbiamo l'ideologia totalitaria, ossia una teoria che spiega ogni cosa del mondo, senza necessità di prove empiriche. Nel totalitarismo il potere è determinato dalla volontà e più si avvicina al leader, più si ha potere. Il totalitarismo mira a distruggere la vita democratica diffondendo la paura del diverso e dei propri vicini. La guerra tra poveri, pensiamo a oggi Salvini, e il conformismo, che è una minaccia costante. L'Arend a queste cose contrappone la poleis greca, in cui c'era l'agire, inteso come azione e discorso. Gli abitanti della poleis partecipavano attivamente alla democrazia diretta di Atene e discutevano e si impegnavano. Ad essi invece il discorso è stato sostituito dal fare e dal lavorare. L'Arend distingueva tra vita contemplativa e quella attiva. L'attiva è divisa in tre vie, il lavorare, che si fa sempre per sopravvivere, tranne che ha dei servi, come un borghese, un feudotario o uno schiavista, e che serve a produrre beni consumati subito. L'operare, tipico dell'Homo Faber, che costruisce cose che perdurano nel tempo, e infine l'agire politico, che è invece quello che mette in rapporto gli uomini senza la mediazione delle cose materiali costruite nell'operare. La prassi politica di uomini liberi e maturi che dialogano nella fiducia reciproca, invece della costrizione, che è tipica della famiglia, invece, e degli imperi asiatici che sul modello familiare si richiamano. Tutto questo è finito con la crisi dell'impero romano, in cui sopravvivere diventa difficile e tutto viene ridotto al lavoro, alla sopravvivenza, e anche alla politica, pensando a come oggi il 90% del dibattito politico è questa cosa, come mi conviene, non mi conviene, quanto mi farà pagare, quanto mi farà male. Non c'è più il discorso pubblico, c'è il trionfo dell'Homo Faber, che lei vede in cartesio, che dubita del mondo reale nei suoi pensieri. A questo si ricollega il concetto di fronesis, giudicare attraverso l'intuizione per il senso comune, e in questo discorso si interseca la maturità. E qui lascio la parola al professor Saudino. Tra i concetti filosofici più affascinanti e importanti di Annare, ma forse anche tra quelli meno conosciuti, vi è certamente il concetto di diventare maggiorenni, concetto filosofico che la grande filosofa tedesca, la grande filosofa della politica, recupera da un altro grande filosofo tedesco, ovvero Immanuel Kant, il quale, nel celeberrimo pamphlet che cos'è l'illuminismo, risponde dicendo che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo da uno stato di minorità che l'uomo deve imputare a se stesso, in modo particolare alla sua pigrizia. Ebbene, Annare riparte da questa riflessione kantiana per dire che essere maggiorenni, diventare maggiorenni, ovvero emanciparsi, significa agire politicamente, significa entrare nello spazio pubblico condiviso della politica. Essere maggiorenni significa saper agire in maniera consapevole in uno spazio plurale, in uno spazio politico, in uno spazio pubblico. Significa saper agire in modo autonomo e consapevole con le altre persone, con gli altri soggetti individuali o sociali. Pertanto diventare maggiorenni è una questione politica, diventare maggiorenni è un'azione politica, profondamente politica. E per spiegare tutto ciò Annare ritorna nella Grecia antica, ritorna alla polis. Nella polis diventare maggiorenni significava partecipare alla vita politica della città. Le donne, gli schiavi, i prigionieri erano esclusi da questa possibilità. Ma gli uomini che decidevano, liberi, di entrare a far parte della vita politica dovevano mostrarsi audaci e coraggiosi, dovevano sapersi mettere in gioco. Ecco dunque, ci dice Annare, che l'agire politico è il cuore pulsante del diventare maggiorenni. Essere maggiorenni significa avere il coraggio, avere l'audacia di partecipare, di partecipare all'interno di uno spazio comune, condiviso, partecipare prendendo delle decisioni, assumendosi sulle proprie spalle l'onere e l'onore di prendere delle decisioni in autonomia. E dunque il coraggio e l'audacia queste antiche virtù sono più che mai virtù politiche, sono più che mai virtù che fanno diventare un uomo o una donna maggiorenni. Diventare maggiorenni significa dunque partecipare in maniera consapevole e autonoma alla vita politica. Dunque la maggiorità è più che mai una questione politica. Nel ventesimo secolo le dittature, i totalitarismi che Annare ha studiato in maniera minuziosa nel suo capolavoro le origini del totalitarismo tolgono agli uomini e alle donne la possibilità di partecipare alla vita politica. Pertanto i totalitarismi trasformano i lavoratori, le lavoratrici, i cittadini e le cittadine in sudditi, in uomini e donne minorenni che non hanno lo spazio per poter agire, non hanno la libertà per poter agire. Sono uomini e donne guidati, dunque sono minorenni, sono guidati, incanalati, obbligati, spinti verso scelte che non sono tali ma che sono appunto obblighi. I totalitarismi sono coercitivi, pertanto tolgono agli uomini la libertà politica, tolgono alle donne l'autonomia delle scelte politiche e dunque i totalitarismi trasformano tutti gli uomini e tutte le donne in bambini, in minorenni. Il totalitarismo non si regge sulla maggior età dei cittadini, bensì sulla minor età dei sudditi. Ma anche le democrazie, secondo Anne Arendt, possono trasformarsi in spazi politici di minorenni e non di maggiorenni. Le democrazie possono infatti avere delle involuzioni, possono diventare democrazie autoritarie, possono ammalarsi anche di burocrazia, di amministrazione e di tecnica. E quando nella democrazia prevale l'apatia o un quieto vivere distaccato dalla partecipazione, le democrazie appassiscono, le democrazie sfioriscono, le democrazie si nutrono della maggior età dei cittadini. Nel momento in cui i cittadini demandano ad altri la partecipazione, nel momento in cui i cittadini rinunciano alla partecipazione, nel momento in cui i cittadini preferiscono essere minorenni anziché maggiorenni, ecco che la democrazia si ammala, ecco che la democrazia si svuota. Dunque il discorso fatto da Anne Arendt per il totalitarismo in maniera netta e forte è un discorso che possiamo fare anche per le democrazie, le quali possono proprio trasformarsi in men che non si dica dalla maggior età dei cittadini alla minor età dei sudditi, proprio perché nel quieto vivere può prevalere l'apatia, può prevalere la noia, il disinteresse e la noia, l'apatia, il disinteresse sono proprio gli elementi che portano la democrazia al crepuscolo, portano la democrazia al declino, perché la maggior età consiste proprio nel partecipare. Pertanto Anne Arendt sostiene che la libertà e partecipazione, come poi reciterà in una sua celebre canzone, appunto Giorgio Gaber. La libertà e partecipazione e la libertà come partecipazione fanno la maggior età. Diventare maggiorenni pertanto significa per Anne Arendt partecipare, diventare maggiorenni per Anne Arendt significa assumersi la responsabilità politica di partecipare, di decidere e di contare e dove non c'è più la maggior età ecco che si insinua la pigrizia, si insinua la sonnolenza e i cittadini diventano dormienti e i cittadini diventano sudditi e dove viene meno la partecipazione viene meno la libertà, perché partecipazione e libertà sono i due aspetti politici dell'essere maggiorenne di un uomo e di una donna. E questo ci porta alla filosofia dell'amore con cui l'Arendt ha cominciato a scrivere, già con la sua detesi. Lei analizza le tre forme di amore partendo da Agostino, quindi amore come desiderio, amore come relazione tra uomo e Dio e amore per il prossimo. L'amore come desiderio anticipa il futuro, mentre l'amore per il creatore ricorda il passato. L'amore per il prossimo è il più fondamentale e gli altri due sono orientati a quello e conduce alla vita sociale, politica direi. Da qui la regola d'oro del cristianesimo ama il prossimo tuo come te stesso. Al centro di quest'idea c'è la natalità e la rinnovazione connessa a questa, che porta del nuovo del mondo e che è meno pessimista del suo mentore Heidegger che si concentrava sulla mortalità. E questo ci porta a parlare della relazione extraconiugale che ci fu tra l'Arendt, all'epoca una studentessa, e l'Absolute Chad Heidegger. Perché a noi sono rimaste delle lettere, che devo dire a leggerle sono effettivamente molto tenere. Cioè dimostrano che entrambi ci tenevano parecchio l'uno all'altra e che era una relazione filosofica, intrinseca al loro pensiero stesso di essere per l'altro e di amore. In una di queste lei gli scrive e se Dio vorrà ti amerò anche di più dopo la morte. Molto poetico. Poi lei sposò Gunther Anders e aiutò molti eberi a fuggire dalla Germania e venne a sapere del casino di Heidegger con la politica. In ogni caso lei al processo testimone a suo favore e quando rientrò in Germania con l'incarico della ricostruzione culturale ebraica lei fece mandare un bigliettino ad Heidegger in cui semplicemente c'era scritto sono qui e lui venne subito ad incontrarle e si parlarono. Lei disse poi che lui non si era reso conto che erano passati 25 anni da quella storia romantica e che in seguito avrebbe avuto un incontro a tre in cui era presente pure la moglie che ovviamente non era proprio contentissima e poverina. E ora passiamo a Simone Weil che è stata un'importante influenza in uno dei miei primi libri che ho scritto e che spero di non pubblicare mai perché ero piccolissimo. Simone era una donna intellettuale attenta alla morale tanto che il suo pereside l'aveva chiamata imperativo categorico ingonnella. Lei aveva studiato Cartesio e si era resa conto di come non si poteva ridurre la natura alla sola coscienza che è attiva ma bisogna considerare anche l'immaginazione che è passiva e che in ultima analisi si fonda sul lavoro. La Weil infatti studia la filosofia del lavoro, il lavoro a fianco del povero, degli operai. Lei lavorò per tantissimo tempo in una fabbrica, sfiancandosi, affaticandosi fin quasi a svenire, descrive l'esperienza massacrante degli operai come quasi mistica, parla dell'automazione e la critica alla burocrazia del partito comunista pur essendo lei marxista. Il lavoro è caratterizzato da una brutalità atroce che abbruttisce l'uomo e lei vedendo queste persone, gli oppressi che sono tutti affaticati, ingobliniti, proprio ingobbiti, lei coglie però uno scorcio di speranza. Lei che inizialmente sperava in una rivoluzione futura, dopo aver inizialmente sperato in questa rivoluzione, lei rimane disillusa. Questo è un mondo pessimista e contraddittorio e che però dobbiamo accettare in un amorfati e lei ha come rivelazione la religione degli oppressi, il cristianesimo cattolico. Lei sentì l'impulso di inginocchiarsi in una chiesa, spinta da qualcosa di più grande di lei. Lei è sempre rimasta sulla soglia della chiesa, prevedi divergenze ideologiche, in quanto lei credeva che tutte le religioni contenessero semi della stessa verità e che la chiesa si era fatta corrompere, come l'ebraismo, dal potere secolare, Roma in questo caso. Il potere è ciò che causa uno scisma tra individui e collettività e trasforma gli uomini in cose. Al suo posto la Veil protende per una decentralizzazione progressiva. E ora passiamo agli autori liberali, i quali si chiedevano come vivere bene e nel modo giusto, e trovarono varie risposte. Il primo è Rawls, il quale sostiene che bisogna trovare un equilibrio tra la giustizia sociale e la libertà individuale. Lui si chiede che cos'è l'uguaglianza. È sempre uguaglianza in qualcosa, uguali nel vestire o nell'altezza, e non si può essere uguali in tutto senza contraddirsi. Rawls non sembra conoscere la differenza tra egalitarismo e uguaglianza. Rawls però fa un esempio giusto. Dice ad esempio che una donna incinta puoi anche pagarla uguale ad un uomo, ma sarà comunque in una situazione peggiore. Capito? L'economia deve essere flessibile per i bisogni del singolo. Secondo Rawls bisogna abolire le leggi se sono giuste, e bisogna contrastare l'utilitarismo in favore di una politica che mette al centro la libertà, che è un diritto assoluto, senza alcun compromesso, basta che valga per tutti. Secondo Rawls questa idea è corretta, perché è basata sull'idea che, se gli uomini sono razionali e concordano su dei principi che valgono per tutti, di equa distribuzione, e le istituzioni soddisfano tutto questo, la società sarà equa. Ora, se volete la mia opinione, questa è un'enorme fallace, purtroppo la sento molto spesso in politica, queste idee politiche mostrano i loro difetti dopo cinque secondi. Sono basate sull'assunto che tutti gli uomini sono agenti perfettamente razionali, e tutti concordano sulle leggi in reciproco rispetto. Non funziona! Non è mai stato così. Gli esseri umani sono animali, con elementi profondamente irrazionali e traviabili. La società non nasce per un comune accordo tra gentiluomini ottocenteschi, e non nasciamo tutti con le stesse opportunità. Se fondi la tua teoria politica su un'idea utopistica come questa, poi applicandola alla realtà, crolla tutto. Ma non voglio essere severo con Rawls, perché a confronto con quelli che spiegherò dopo è un santo, credetemi. Lui elabora una posizione originaria, ossia la situazione ideale su cui si fonda la società. Questa deve escludere, usando un velo di ignoranza, quei fattori che possono mettere in conflitto gli umani. Ad esempio, se tu sapessi di essere povero rispetto ad un'altra persona, magari vorresti una tassa per i ricchi, ma se non sai dell'enorme disuguaglianza, allora potresti non sospettare che vieni fregato. In questa posizione originaria tutti hanno la stessa situazione iniziale, scelta da persone razionali, libere e uguali, insomma una serie di cose che nella realtà non ci sono mai state, e contrattualiste. Secondo Rawls ci sono due principi di giustizia che devono essere applicati assieme. Uno, ognuno ha diritto alla massima libertà, compatibile con le stesse libertà altrui. Si tratta ovviamente di una definizione imprecisa e semplicistica. Dire io sono favorevole alla libertà è una bella parola che però è priva di significato filosofico. Tutti siamo a favore della libertà, poi bisogna andare a capire esattamente cosa si intende per libertà. E qui fondare la tua intera idea politica sulla libertà è un enorme errore. Io da questo punto di vista vi rimando a Zizek, che giustamente a coloro che dicono viva la libertà sopra ogni cosa, rispondeva con uno schiaffo morale in faccia, dicendo libertà di cosa? Libertà in che senso? Libertà in senso assoluto non esiste, è sempre libertà da qualcosa o di fare qualcosa. Il secondo principio è che per Rawls le disuguaglianze sono giuste solo se producono benefici compensativi per i più poveri, e sono collegate a cariche aperte a tutti. E come sappiamo questo è doppiamente sbagliato. Mi spiace essere così severo ma la gente ci fonda i partiti politici su ste stronzate. Da un lato la disuguaglianza ha degli effetti negativi in economia di suo, ne ho parlato nel video del buco. Ma poi non tutte le opportunità sono realmente aperte a tutti, è meritocratica, solo una minoranza lo è. E per Rawls non è ammissibile che alcuni, i ricchi, soffrano poco, anche se questo produrrà un enorme beneficio per gli altri. Per Rawls le libertà fondamentali sono quella di voto, quella di parola, di riunione, di pensiero, di proprietà privata e libertà d'arresto arbitrario. Mi verrebbe da chiedere che ne è della libertà di non morire di fame, di non morire di malattie prevenibili dal farmaco, la libertà di avere un tetto sopra la testa. Anche quelle sono libertà materiali. Ogni libertà è materiale. Per Rawls la disuguaglianza è qualcosa di naturale, il che è sbagliato, ne abbiamo parlato nel video di terrore sopra popolazione, le gerarchie sociali sono tutto meno che naturali, e quindi per lui la disuguaglianza è giusta, secondo errore. Solo perché qualcosa è naturale non significa che sia giusto, anche il cancro è naturale. Per Rawls serve un principio di riparazione, secondo cui coloro che stanno meglio devono migliorare solo nell'ottica del beneficio di tutti. Ovviamente questa cosa dovrebbe avvenire spontaneamente e non deve imporla allo Stato. Sappiamo che non è così e che per il profitto si fa è come il danno collettivo, l'inquinamento è l'esempio più eclatante. Ma come ho detto, Rawls è un santo in confronto a Nozick e Hayek, che fanno i stessi errori, ma almeno lui cercava di compensare con la teoria della riparazione. Nozick è ancora peggio. Per lui ci deve essere una libertà assoluta dell'individuo che deve fare quello che vuole, anche sfruttare gli altri. Lo Stato deve essere minimo e deve limitarsi a difendere la proprietà privata e le leggi, e solo a quel punto può intervenire con una giustizia che deve essere rigorosamente PUNITIVA. Per lui la giustizia della proprietà privata è determinata dal fatto che questa sia data dall'acquisto volontario, libero e non fraudolento. E già questa è un'utopia nell'utopia. Ingannare l'acquirente in infiniti modi è qualcosa che è quasi assoluto in tutte le forme di mercato. E la simmetria di informazioni peggiora ancora le cose. Inoltre sappiamo che la proprietà privata non nasce affatto per merito o per chi ci è arrivato per primo. Se tu per primo vedi una fontana nella peristoria, poi arriva un altro, un uomo più forte, ti uccide e si prende la fontana. Quindi no, la proprietà privata non nasce con una legittimazione. È un puro atto di forza. E senza lo Stato non sarebbe mantenuta. Nozick nega l'esistenza degli enti sociali. Per lui esistono soltanto gli individui e basta. In pratica secondo Nozick non è possibile astrarre, cosa che però lui fa continuamente in economia. Infine lui era un animalista e riteneva che non bisogna uccidere gli animali per cose futili. Questa cosa degli stronzi con gli umani ma non con gli animali non l'ho mai capita. E secondo lui le utopie sono sbagliate perché impongono un modello di vita a tutti, ma tutti noi siamo diversi. Passiamo quindi ad Hayek, sostenitore del neoliberismo più sfrenato, premio Nobel dell'economia, cosa citata continuamente per giustificare ogni checata che ha detto, e ne ha dette tante. Ora ripeto, non correggeremo i suoi errori in economia perché sono tanti, anche perché comunque Hayek è considerato largamente superato persino dai più strenui liberisti. Lui ritiene che il socialismo sia la radice da cui è uscito il nazismo, ovviamente. Per lui la libertà è sempre negativa, cioè la libertà dà qualcosa, assenza di interferenze esterne. Oggi sappiamo che Hayek si sbagliava, per quanto sia santificato dagli ultraliberisti è doppiamente erroneo. Esiste anche una libertà positiva, cioè libertà di fare, e poi la sua concezione di interferenze esterne è molto relativa. Quanto sei libero quando hai un cancro in fase terminale? Quando stai morendo di fame? Hai la stessa libertà di scioperare quando hai uno stipendio che ha malapena ti fa arrivare a fine mese? Non diciamo stronzate. Secondo Hayek la proprietà privata è il fondamento di tutte le civiltà evolute. Quindi suppongo che per Hayek l'Unione Sovietica sia andata sulla Luna con strumenti paleolitici. Alla legislazione, che è basata sul particolare, Hayek preferisce la legge, che è universale. Per lui l'intervento statale modifica la posizione economica delle persone. Questo è sbagliato. Ognuno è dove si merita di essere. Deve esserci una rete per i più poveri, ma questa rete non deve assolutamente farla allo Stato. Deve nascere spontaneamente nel libero mercato. E vedrete che il libero mercato si occuperà di tutti i poveri, senza lasciarne indietro nessuno. La ricerca dimostra l'opposto. La sua fiducia nel mercato libero è quasi religiosa, leggendo i suoi testi. E questo si coordinerà sempre da solo e rispetterà i desideri dei consumatori. Oggi sappiamo che è il contrario. Induce desideri artificiali e modifica le preferenze del pubblico. Hayek preferiva la demarchia, che rispetta le minoranze, alla democrazia. Hayek è considerato il profeta del liberismo moderno, e nessuno di questi pensatori più famosi di lui. Non c'è niente di meglio. Tra i pensatori liberisti e i pensatori marxisti abbiamo in mezzo il comunitarismo di McIntyre. Non so come si pronuncia. Lui critica il falso dualismo tra collettivismo, che non si fida dell'individuo, e individualismo feroce, che invece ha una fede fondamentalista in questo. Quando invece entrambi sono basati sull'errore della razionalità burocratica, che è silente sui valori, utilitaristica, soggettiva e relativistica. E Nice aveva evidenziato che l'illuminismo aveva questo difetto, distruggendo i valori senza sostituirli. McIntyre recupera Aristotele e la visione classica dell'uomo, che deve rispettare le virtù che sono legate ad una certa comunità, al di fuori della quale non c'è alcuna moralità. Vi lascio il link Amazon della banalità del male in descrizione. Ringrazio il professor Saudino, che ci ha spiegato la filosofia della maturità dell'Arend, e vi invito a visitare il suo canale in descrizione. Fa delle lezioni favolose per studenti. Se i miei video ti piacciono, dai un account al mio tp, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche il mio libro e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi tra l'altro che adesso il libro è presente pure su Amazon. Lo potete prendere con la 18 app, potete ordinarlo da fuori Italia, potete fare quello che volete.